ciao caro spirito eterno il titolo è la continuazione di un altro video che forse è già visto oppure lo puoi vedere su questo canale prigionieri del pianeta terra era il titolo dell'altro questo qui è da prigionieri a spiriti liberi potrebbe essere un titolo tipo la grande fuga la grande evasione in realtà è un passaggio mentale dovuto a una scelta spirituale quindi tu spirito eterno mai nato mai morto equivalente a dire tu coscienza eterna riprendi il tuo libero arbitrio la tua volontà la tua scelta il tuo potere personale riconosci che sei prigioniero adesso vediamo di chi prigioniero e torna a essere quello che sei spirito libero spirito libero può essere spirito libero anche in un corpo fisico adesso e spirito libero libero anche da nascita malattia vecchia e morte quella che ho già spiegato in sanscrito la lingua portata migliaia di anni fa dai deva su questo pianeta si chiama samsara samsara allora cosa possiamo fare vediamo un po riconoscere che siamo prigionieri di chi allora ne esistono in europa l'unione europea ci sono delle monarchie monarchie vuol dire che uno siccome nasce figlio di un rapporto sessuale tra un re e una regina automaticamente è re viene mantenuto per nascita il reddito di nascita possiamo chiamarlo e diventa proprietario di tante realtà e viene mantenuto con le tasse con i soldi degli abitanti di quel posto e in europa ci sono ci sono nel mondo sono dei regni in asia in africa non ci sono in america però in europa africa asia ci sono loro dicono molte di queste famiglie reali che sono lì per volontà di dio e capire qual è la volontà di dio quale dio dicono tu sei stato creato quindi per loro sei un suddito per molte religioni sei un peccatore un'anima caduta un'anima caduta un'anima caduta faccio un esempio sono stato in india dove qualcuno dice di adesso krishna però viene un'influenza dall'occidente perché prima non c'era questa parola cinque mila anni fa non c'era krishna è dio tu sei stato creato krishna la persona suprema a dio sì ma krishna dice non ci fu mai un tempo in cui noi non esistevamo né ci sarà mai un tempo in cui cesseremo di esistere e dice a dar giuna siccome sei mio amico ricordati di me attenzione e mi raggiungerei nella mia dimora quindi non parla di una sua onnipresenza però all'oratorio al catechismo alle messe che in cui sono andato insieme a mia mare mi ricordo benissimo parlavano di creazione cioè prima non esistevo adesso esisto grazie a un creatore di cui alcuni si fanno portavoce profetti portavoce vicario 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 il papa dice essere vicario di dio però anche l'altra religione quindi siamo prigionieri di gruppi politici e di gruppi religiosi alleati o in lotta tra di loro perché non è che tutte religioni che parlo di dio vanno d'accordo tra di loro anzi sono molte guerre negli ultimi secoli quando 800 anni fa in questo libro ne parlo dovresti leggere questo libro oltre del mantra parlo del perché il mantra sono stati combattuti negli ultimi 800 anni dai musulmani dagli inglesi in india dai portoghesi dai francesi dai danesi che hanno cercato di invadere l'india quelli che hanno fatto più morti sono stati milioni di morti causati dagli invasori musulmani seguiti poi milioni di morti causati dagli invasori inglesi però il cattivo quando uno vuole offendere un politico lo si paragona a hitler il re leopoldo del belgio che il belgio non è molto grande dicono che i belgi abbiano ucciso 20 milioni di persone in africa gli americani o gli europei trasferiti nel nord america hanno ucciso milioni di neri perché per ora di catturarli imprigionarli frustarli incatenarli portarli e poi quelli che si ribellavano li avevano subito uccisi davanti agli altri torturati frustati bruciati vivi quindi di morti non li ha fatti solo hitler li ha fatti io non sto dicendo che non li ha fatti però anche altri perché perché uno deve essere suddito adesso c'è un altro tipo di sudditanza quella economica io sono cresciuto con quello che si chiama il boom economico non c'è stato nessun boom economico che negli anni 60 io sono andato nel 1946 tutti avevano la macchina no guidavano la macchina non avevano perché la pagavano a rate ci sono persone che hanno preso una macchina a rate hanno avuto un incidente sono morti prima di finire di pagare le rate non so se le pagavano i discendenti o chi le pagava quindi tutte queste milioni di macchine in giro non erano il risultato di una ricchezza a rate poi comode rate quindi una grande inganno allora c'è chi vede gli altri da sottometri come peccatori come sudditi come consumatori come dipendenti la parola dipendente non è bella perché la dipendenza squilibra il nostro rapporto interiore e fisico tra corpo mente e spirito e spirito mente e corpo per tornare a essere spiriti libri ti consiglio di studiare tre libri uno che ho scritto sulla mente il grande potere della mente positiva uno che ho scritto sui chakra il potere dell'energia vitale e l'altro la prossima vita in cui spiego come uscire da questa dipendenza allora è possibile passare da prigionieri a spiriti liberi? ti consiglio per approfondire oltre a questi tre libri scrivimi te li mando e ho già detto il ricavato va in beneficenza ai programmi umanitari dell'ONLUS che ho fondato io tanti anni fa è possibile uscire dalla prigione? è possibile perché la prigione è soprattutto adesso un fatto mentale è vero che in una religione come l'Islam la donna è prigioniera dell'uomo prigioniera nel senso che non ha diritti basta vedere queste coperte tutte vestite che vanno a fare il bagno vestite quando fa caldo non vanno certo d'inverno quella è una forma di sudditanza di schiavitù prigionia ci sono delle regioni dove le donne sono prigioniere dei maschi solo per il fatto di essere donne allora se tu vuoi liberarti dalla tua prigionia studia, 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 medita e osserva con attenzione l'ambiente in cui vivi studia bene un po' la politica, la religione cosa vogliono da te ti dicono che Dio ti dà intanto ti chiedono soldi ti chiedono soldi non dicono andiamo a fare una cerimonia spirituale in riva al mare in una foresta no costruiamo un edificio e lo chiamiamo la casa di Dio il tempio di Dio il luogo sacro poi chi è che controlla il portone del luogo sacro? i capi ti fanno entrare non ti fanno entrare sei scomunicato sei nemico non è che ti dicono andiamo a celebrare Dio nella sua creazione no costruiscono basta entrare nel Duomo di Milano e a Piazza San Pietro e capisci che per i tempi in cui è stato costruito vai a vedere i tempi su internet, studia bene era impressionante colonne gigantesche la grandezza l'architettura la scultura la pittura usata per far sentire piccolo il prigioniero tu non sei nessuno però se vuoi che Dio ti tratti bene dammi i tuoi soldi dammi il tuo tempo dammi la tua energia quindi caro Spirito Eterno se ti senti prigioniero di gruppi di potere del pianeta Terra informati scegli di tornare a essere Spirito Libero perché questa è la formula amore sempre ovunque baci una volta si davano diamoli ancora grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.